buona sera a tutti sono luigi oneracu se preferite bentorni su un battle verso ne jap col secondo episodio che però come vedete ancora punteggiato zero del doc al laboratorio in cui andremo ad affrontare ottone ho preso alcuni vostri consigli dello scorso e li ho portato a portare in quest'altro vediamo come va spero di riuscire a breve di fare goku kid anche perché dopo domani esco in gamma quindi non vorrei rimanere eccessivamente indietro e tramite goku kid portarvi la versione definitiva del format oggi affrontiamo un pg molto importante con questo format ulteriormente rinnovato ovvero ottone vedete non ci sono tante modifiche la prima pagina identica prima giusto legato leggermente diverso e partiamo ottone agl 12.815 hp 9156 attacco 8.428 difesa ad ability free db saga leader 330 per cento carino per il battlefield nel caso vogliate andare con un db saga in uno degli stage questo ragazzi è uno dei migliori principi del gioco ve lo dico proprio popale popale è limitato a determinate categorie neanche tutte delle sue categorie principali se vediamo team puri in team anche coi gamma guadagnerà un molto utilità cioè ottone sarà molto utile in un determinato team coi gamma che poi andremo a a trattare quando avrò goku kid perchè è obbligatore anche goku kid per quel team e ve ne parlerò nel video inerente gamma e ottone di per sé è un ottimo pg da dei limiti dovuti al suo stesso kit abbia un 80 per cento acqua difesa inizio turno standard ci sta dm 20 per cento e già qua non male è bassa non ha chi sa quale difesa inizio turno però è già un passo avanti abbiamo poi se avete goku kid nello suo turno e qua già capite quale è l'imitazione 80 per cento acqua difesa più un 30 per cento di damage reduction quindi nel mente muoio per la tosse quindi è obbligatorio il turno con goku kid obbligatorio obbligatorio in quanto in quel modo avrà un 50 per cento senza goku kid ragazzi ottone perde tantissimo e da una parte quindi sono felice di averlo full ability dall'altro avrei anzi full ability più uno quel più uno riscando volentieri con una coppia di goku kid tra l'altro come vedremo goku kid gli aumenta ulteriormente questa damage reduction dopodichè più otto chi è 80 per cento d'attacco difesa per cinque turni dopo aver ricevuto un attacco quindi abbiamo un ulteriore aumento che vuol dire che porta le sue statistiche a 224 per cento di difesa per cinque turni dopo aver ricevuto un attacco o addirittura un altro 68 per cento se in turno con goku kid come vedete adesso queste informazioni dei calcoli le avete proprio già segnate è uno screen della pagina della wiki detta come l'ha detta ulteriormente 30 per cento di recovery del danno aggiuntiva arriviamo quindi a un 80 per cento e 80 per cento di recovery di hp una volta sola ora la damage reduction rimane la recovery è una volta sola nel momento in cui avrete meno del 20 per cento di hp per da quando sarà passato il quinto turno non facile da ottenere assolutamente ma vuol dire avere un pg con 80 per cento di damage reduction è una difesa bella alta il nostro special purtroppo per fortuna dei miei punti di vista aumenta unicamente l'attacco ma ci sta link gentleman android assault in fighter toga snails guidans of the dragon ball questa è carina incredibile adventure da maxare possibilmente e fierce battle ragazzi già da queste stats penso che abbiate un attimo le idee chiare il pg è un pg da slot 1 nel momento in cui avete gokid se non avete gokid non lo giocate è un pg da slot 1 anche se avete gokukid int anche se prima di fullarsi la passiva può comunque dare qualche problemino pericolo gokukid che analizzeremo mentre la damage reduction quindi per essere un pochino più tankoso è naturale che funziona comunque nel momento in cui avete damage reduction e passiva completa tanka anche sel max ragazzi tanka tranquillamente anche sel max ve lo dico proprio chiaro chiaro vi fregate di qualsiasi roba questo roba si potrebbe tankare pure tutte e tre tutto il mondo delle special di broli di fila è una bestia di satara è davvero davvero forte davvero davvero forte come però vi ho spiegato il principale difetto è la sua giocabilità che è limitatissima ho modificato la seconda schermata non vi mostrerò più i migliori linking partner in generale almeno questa è la mia idea che poi vediamo vi mostrerò le turnazioni migliori in cui è giocabile il protone che non è giocabile in chissà quali turnazioni è giocabile solo in queste due turnazioni e cosa ancora più importante è limitatissimo perché se è vero che con gokukid fisico si può giocare in db saga e in movie heroes e ragazzi movie heroes manda quel paese praticamente pure god boys ormai penso che il miglior movie heroes sarà quello che giocherà i gamma e gokukid fisico e ottone sarà full tour ora vediamo l'uscita dei gamma se confermerà questo che poi gamma movie heroes ci sta perché comunque sono super eroi però li avrei aspettati i movie bosses sono comunque oddio sono anche cattivi del film alla fine ci può stare qua tornando a noi se non avete gokukid fisico un problema perché diventa giocabile solo in db saga e forse in bond mi è appena avvenuto il dubbio in bond è giocabile sto robo è giocabile in bond con l'int non è giocabile anche in bond non ero totalmente sicuro quindi abbiamo col fisico tre team su cinque quindi db saga movie e bond con l'int db saga e bond è naturale che dove potete giocarlo lo giocate l'int nonostante l'esa sta molto sotto il fisico molto sotto il fisico e quindi avete qualche problema ciò nonostante avete il pg slot 1 per una delle due turnazioni cosa a mio avviso che vale tanto avete anche un senso vivente per diversi tipi di eventi è naturale non è facissimo gestirsi e arrivare a quegli hp però avete tanta robina in un pg solo la chan l'hanno fatto davvero bene infine ho riportato un qualcosa che solo i più vetusti di voi ricorderanno ho riportato qualcosa che tutti voi mi avete richiesto che è stata una mia dimenticanza e ho modificato un col di vecchio l'ultima schermata avrà adesso dei pro e dei contro scritti in italiano me ne foto altamente dalla parte inglese sinceramente e saranno prevalentemente seri ve lo dico proprio palle per palle prevalentemente seri in caso di più pg con gli stessi pro e contro li andrò a metterli una volta sola e nulla in realtà vi abbiamo già detto tutti quanti pro e contro di a chan è uno dei migliori tacchi del gioco ha diversi team 200% in realtà può avere o meglio più che team leader forse avrei fatto meglio a scrivere avrai gamma, goku kid avrà anche team in futuro in cui potrà giocare nel 100% di un pizza slot 1 che oggi sono i più importanti del gioco il contro è il fatto che goku kid è molto obbligatorio e a oggi i migliori team in cui può giocare con leader 200% completi sono db sag e moviros negli altri suoi team bond on friendship qua non l'ho considerato però fa fatica il che è un peccato perché un'aggiunta simile in android artificial sarebbe stata molto molto interessante la bill consigliata mi avviso un full critico e la sua valutazione non prenderà più un una lettera o altro ma un mio commento sul pg questo è un resummon un resummon da avere ma steve assolutamente perché goku kid lo potrà prendere coi coin lui no lui in un certo senso è più raro di goku kid da un altro meno però capite che comunque avere lui avere una d'ability è più difficile di avere goku kid l'ability che tornerà nel corso del tempo se può goku kid naturalmente è migliore tutto questo fatemi sapere cosa pensate di questo format in questo modo ci saranno delle piccole variazioni in alcuni anali tipo i 5 dell'ave maria esa o qua ci saranno molte pg sarà molto più sbrigativa io vi auguro una buona serata prendo i vostri dati che mi darete dopo domani il giorno in cui esco di gamma forci l'analisi di goku kid in modo da avere questo format completo e poi passerò al prossimo format perché devo fare anche quello delle guide comunque un passo alla volta buona serata e alla prossima continuo a dire che se qualcuno vuoi aiutarmi a migliorare queste grafiche perché il dottor Geroschilla Geroschilla fa paura sotto l'aspetto sbagliato mi può contattare buona serata e alla prossima